Sono morto, che ero bambino, sono morto con altri cento, pensato per il cammino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad oggi c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad oggi tante persone, ma un solo grande silenzio, che strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo, uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. E ancora tuona il cannone, e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà parare a vivere, senza ammazzare, e il vento si ponderà, e il vento si ponderà. Grazie. 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 Grazie.